Accipicchia. Dopo una giornata di fatica ci vuole un po' di riposo. Sì dai Alcino, ma ce la faremo, diventeremo cavalieri e saremo al fianco dei più deboli, vedove e orfani. E parteciperemo a giostre e a incontri, i più importanti, Cesena, Ferrara e addirittura Parigi. Sì, ma dovremo lavorare vent'anni nell'osteria del drago per guadagnare i fiorini necessari per l'armatura. Tranquillo, tranquillo, pezzo per pezzo, prima gli schinieri, poi i bracciali e infine otterremo anche l'elmo. In questo ci aiuteranno gli amici che credono nei valori della cavalleria, cavalieri di ieri, di oggi e di domani. Cavalieri come voi. Aiutateci a vestire le nostre passioni. Il palio di Cesena si prende la scena, racconta leggende di oggi e anche di ieri. La giostra di incontro di Cesena costituisce un meraviglioso tesoro fatto di storie di avventura, di cavalleria, di passione, di coraggio, di amore. A rendere tangibili e concreti questi valori ci sono i cavalieri con le loro splendide armature. Sono delle vere e proprie opere d'arte e per questo motivo abbiamo deciso di acquistarne una, così da poterla rendere disponibile, da fare toccare con mano ai nostri ragazzi e a tutti gli appassionati questa splendida tradizione. Aiutateci con questo crowdfunding a trovare i fondi per realizzare questo sogno. Cesena così bella, io non ti ho vista mai, un tribunio di bambiere e di nuovi eroi. Ricordate! Vestite la nostra passione! Grazie a tutti!